Manca poco per la festa del Santo Patrono di Bari, San Nicola, che si terrà dal 7 al 9 maggio. Tre giorni intensi che vedranno la città vecchia protagonista tra fede e tradizione. Le luminarie in piazza ferrarese e i preparativi del corteo storico sono alle ultime rifiniture. Ce la stiamo mettendo tutta ovviamente per riuscire a rendere gradevole, bello ed emozionante lo spettacolo. C'è molta vita dentro, c'è molta festa, c'è molta meraviglia e cercheremo di tenere anche fede al messaggio evangelico di San Nicola rivolgendo insieme lo sguardo verso l'alto e questo è il titolo di quest'anno. In Basilica aumenta il flusso di turisti e pellegrini venuti per i riti, la messa e la processione all'alba. Qualcuno è arrivato prima del solito approfittando della domenica prefesta. Quest'anno è successo che abbiamo anticipato, se no di solito noi veniamo l'8, partiamo il 7 da sera di maggio, il 7 di maggio all'1 e arriviamo qua verso le 5 e le 6. Da un paio di giorni sono iniziate le chiusure al traffico e i divieti di parcheggio. In Piazza Libertà, già sgomberata dalle auto, i palchi sono quasi pronti. Dalla mezzanotte del 6 maggio si sgombera il lungomare Imperatore Augusto per fare spazio alle bancarelle della Sagre Fiera di San Nicola. Dalle 19 del giorno 6 i divieti si estendono al Molo Sant'Antonio, a Piazza Mercantile, a Piazza Chiurlìa e tutte le vie circostanti della città vecchia. Dalla mezzanotte del 7 maggio l'area vietata si allarga per liberare il percorso del corteo storico fino a giungere al lungomare monumentale per mettere in sicurezza la zona. Sul sito della Polizia Municipale di Bari il dettaglio di tutti gli orari e le strade interessate. Si consiglia l'uso dei parker ride e di fruire del servizio navetta potenziato per l'occasione.